Nella giornata di ieri è stata pubblicata un'intervista di Fabio Mantovani, ex protagonista di Uomini e Donne, ricordiamolo, andato all'altare insieme a Isabella Ricci nel maggio dell'anno scorso. Poco dopo di un anno però hanno deciso di lasciarsi. Lui, Fabio, ha rivelato di essere molto dispiaciuto per questa situazione e che non ritornerà nel programma di Uomini e Donne perché ormai quella trasmissione la collegherà per sempre e solamente a Isabella. Ecco cosa dice infatti in questa recente intervista. Riguardo al suo matrimonio finito con Isabella commenta così. Sono cose che succedono purtroppo. Ne esco con un ricordo bellissimo e con un amarezza per la conclusione. Assolutamente non sono pentito, l'ho voluto. Sappiamo entrambi quali pensieri ci passano per la testa senza dover esprimere niente. Poi commenta. No, in quel programma per me c'era solo Isabella. Tutti nella redazione e nello studio sono stati nei miei confronti magnifici. Mi hanno accolto con affetto ma io ero andato per Isa e senza non ha senso tornare. Dietro la separazione pare ci siano dei problemi riguardanti proprio Fabio. Infatti lui avrebbe nascosto a Isabella delle situazioni molto importanti che riguardavano il suo passato. Per il momento non si sa altro. Aspettiamo di capire se Isabella e Fabio vorranno comunicare ai fan ulteriori aggiornamenti sulla fine del loro matrimonio.